Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa ottima Volkswagen Tiguan dell'anno 2008 con motore 2000 TDI da 140 CV, cambio automatico sequenziale DSG doppia frizione e trazione integrale 4Motion. La vettura ha percorso 170.000 km, naturalmente è tagliandata in modo regolare, i chilometri sono certificabili, ha già eseguito l'azione di richiamo da parte di Volkswagen per il famoso Dieselgate, è ben equipaggiata, infatti monta ruote in lega da 17 pollici, vetri posteriori oscurati, mancorrenti cromati sul tetto e cornice vetri cromata. Inoltre l'auto è dotata di telecamera per retromarcia, sistema di navigazione satellitare touchscreen, che ora vado a mostrarvi. Abbiamo 4 alzacristalli elettrici, volante in pelle multifunzione, ecco il chilometraggio percorso 170.000, la radio RCD 510 con navigazione e sistema touch con slot SD, vi mostro anche la telecamera che si aziona mettendo la retromarcia, eccola qua, tutta roba naturalmente originale, quindi si inserisce anche perfettamente a livello di design, climatizzatore automatico B-Zona, diamo sistema di inserimento ESP, ecco il cambio automatico DSG identificabile, con l'inseritore, tasto auto hold per le partenze in salita, bracciolo, vi mostro anche il divano posteriore per chi siederà dietro, ci sono anche i comodi tavolini negli schinali dei sedili anteriori. Questa vettura viene ceduta con 12 mesi garanzia legale di conformità, finanziabile fino a 5 anni, vi aspetto presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla, grazie.